Oltre, dopo la carriera appunto scolastica, bisogna appunto credere in quello che si vuole fare, bisogna accontentarsi, bisogna sempre un pochettino osare e sempre portarsi avanti, perché tanto, come ci dicevano noi, tutti nei posti fissi non ci stiamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Manuel Garau e come sempre, prima di passare alla nostra intervista, ci tengo a ringraziare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e tutte le aziende che supportano il format. Oggi qui con noi siamo con un imprenditore di Nuoro che tra poco si presenterà e racconterà la sua azienda e la sua storia, quindi una nuova storia in Generazione Z, ma ci tengo prima a invitarvi a iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutte le piattaforme per chi ci ascolta su Spotify, Amazon Music, eccetera, eccetera. Non mi voglio dilungare, ci tengo a presentare l'ospite di oggi di Generazione Z, Salvatore Columbo. Ciao Salvatore, benvenuto. Grazie. In Generazione Z. Grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. Dai, dai. Salvatore, io ci tengo a chiedere sempre all'inizio di, oltre a presentarti come persona, ma anche proprio di cosa si occupa la tua azienda, la Colnat SRL. Allora, la nostra azienda si occupa di logistica e trasporti a temperatura controllata. Abbiamo una piattaforma distributiva da Basanta, quindi Centro Sardegna, da lì diselocchiamo poi tutte le merci per tutta la Sardegna. Abbiamo delle celle frigorifere a meno 20, a zero gradi, e dei ambienti a temperatura normale, quindi a temperatura ambiente, dove facciamo l'augmentazione della merce sempre alimentare, però secca. E da lì appunto distribuiamo copilariamente per tutta l'isola. E lavorate principalmente con, quindi distribuite prodotti alimentari? Sì, prodotti alimentari, diciamo che la maggior parte viene adatta per i servizi a oreca, quindi per la ristorazione. Quindi la maggior parte di tutti i movimenti che facciamo sono canalizzati appunto per la ristorazione. Ok, bello. Poi ci torniamo anche un po' più per comprendere meglio l'azienda dal punto di vista tecnico, ma la cosa che ci incuriosisce a noi della generazione Z è un po' capire come si è arrivati a costruire un'azienda, un po' tutto quello che c'è dietro, sai, un po' immaginando, vendendolo da un'immagine, l'iceberg, quello che emerge è quello che c'è sotto, cioè tutta la storia, i sacrifici che sono stati fatti, gli errori, le porte in faccia. Tu come hai iniziato il tuo percorso? Anche prima dell'azienda? Sì, sì. Come hai iniziato tutto? Vabbè, allora, dopo il diploma, il percorso formativo di un anno, di un corso post-diploma, qualche lavoretto un po' saltuario e così poi mi è riuscito a questa occasione appunto di acquistare un mezzo, quindi lavorare come padroncillo per un'azienda qua in Sardegna. Stiamo parlando del, abbiamo iniziato forse nel 99, tra licenze e tutta la burocrazia varia, per poi iniziare appunto questo percorso come padroncino. Sono rimasto fino al 2008 con questa azienda, collaboravo con questa azienda, con un camioncino, quindi facevo per lungo e per largo tutta la Sardegna. Cioè tu ti svegliavi la mattina, avevi il tuo mezzo e viaggiavi, facevi trasporti? Sì, facevo trasporti, distribuzione per il conto di questa azienda e come zona, diciamo, di competenza era prettamente il nord Sardegna, quindi Olbia, Costa Smeralda, la Maddalena, piuttosto che Santa Teresa, diciamo che la zona dove andavo a fare i servizi erano prettamente sul nord Sardegna. Partivi sempre, tu sei di Nuoro? Io sono di Oliena, quindi rientravo come base a Oliena, spinavo il camion, la sera quando rientravo, le stagioni erano magari le 10, le 11 di sera, le 9, dipende come finiva la giornata, sveglia mattina presto verso le 4, 4 e mezza, ti facevi la lunga corsa per Olbia piuttosto che Portocello, piuttosto che la Maddalena o Santa Teresa e a fine servizi una piccola discesa su Cagliari per andare a ricaricare per il giorno dopo. Per fare un lavoro di questo tipo devi avere anche un po' la passione di guidare, piacere guidare. Sicuramente ci deve essere la passione di guidare, assolutamente, altrimenti… E anche mezzi di un certo tipo, diversi da una macchina, per esempio una macchina comune, ti deve piacere guidare mezzi, appunto camion… Sì, devi essere un po' propenso e devi avere la passione, poi considera che quando ho iniziato io, allora i mezzi erano un pochettino molto molto ancora arretrati, passami il termine, perché all'aria condizionata non c'era ancora, quindi… Quindi d'estate che… Sì, finestrini aperti, testa fuori, vabbè, però abbiamo superato anche quello. E quindi sveglia le 4 e poi ti facevi tutta la Sardegna. Sì, diciamo la zona nord Sardegna… Poi caricavi a Cagliari. Poi caricavo sempre a Cagliari, sì, 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 sì. La 131 ho conosciuto, sì, 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 la conosco dalla vecchia, poi ai passaggi della nova, con le varie varianti, eccetera. Bello. E cioè poi come hai iniziato però a prendere i primi lavori, le prime richieste? Allora abbiamo fatto… dal 2008 al 2014 abbiamo collaborato con un'altra azienda, abbiamo un pochettino ampliato quella che era il parco macchina esistente, quindi abbiamo creato, messo in moto qualche altra macchina e qualche dipendente a sostegno di quello che era l'attività, però lavorando sempre monocommittente, quindi in esclusiva solo per una determinata azienda. Poi dal 2014 ci siamo accorti che forse bisognava un pochettino allargare il campo e quindi dare, creare dei servizi anche per altre aziende, quindi non essere solo monocommittenti ma cercare appunto anche altre aziende che necessitassero di questa tipologia dei servizi. Perché questo? Perché… allora intanto siamo rimasti scottati perché con un'azienda che collaboravamo ci ha saltata e ci ha lasciato un buco un po' grande, quindi ci ha scottato un po' le mani e quindi dall'abbiamo deciso che lavorare solo per un'azienda sei un po' vincolato, sei limitato e quindi comunque non fai un percorso lineare, quindi abbiamo deciso di ampliare la gamma e cercare di collaborare con più aziende possibili, offrire lo stesso prodotto, lo stesso servizio per diverse aziende e quindi da lì in poi abbiamo creato una piccola piattaforma, poi ci siamo spostati dove siamo adesso, abbiamo una piattaforma di 2.000 metri quadri che d'inverno può star bene ma d'estate già un pochettino stiamo stretti, però stiamo cercando comunque… l'idea è quella di crearne una un pochettino più grossa che ci permetta anche di ampliare ancora di più perché oggi sei limitato anche dagli spazi che c'hai e quindi molte committenze le rifiuti anche per quello perché non c'hai gli spazi e rischi quindi di creare più un disservizio che un servizio. Quindi piano piano abbiamo ampliato, cercato aziende che ci hanno risposto, che ci hanno dato le loro committenze e oggi collaboriamo con diverse aziende sia a livello nazionale sia a livello locale e offriamo i servizi per tutte queste aziende. Però è partito tutto da quella scottatura vero? Sì, da quella scottatura. Da quella scottatura avete deciso poi di ampliare e prendere i committenze. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Da lì c'è stata proprio una crescita no? Sì, da lì c'è stata una crescita perché più clienti, più richieste, sì, pian piano ti strutturi in base alle richieste che c'hai, in base a quello che poi devi andare a mettere sul mercato, quindi vai ad ampliare gli spazi, vai ad ampliare il parco macchine. Prima eravamo tutte macchine piccole, adesso pian piano stiamo sempre inserendo macchine un pochettino più strutturate, più grosse, quindi in base alle esigenze, in base all'andamento anche del lavoro vai a poi a strutturarti come azienda tu. Però come l'avete affrontato quella scottatura? Eh no, non benissimo, perché comunque all'epoca avevamo cinque dipendenti, mi sa, e comunque li hai dovuti supportare perché loro giustamente non è che devono pagare le colpe anche di una scelta, tra virgolette, aziendale, anche se calata dall'alto in quel caso, e quindi abbiamo comunque, ci siamo rimboccati le mani che abbiamo deciso di sì, continuare a fare questo lavoro, ma in un modo diverso, quindi un'azienda se va via, pazienza, amici come prima, però abbiamo l'altra azienda che è pronta a sostituirla, oppure continuiamo a lavorare con altre aziende e poi cerchiamo di sostituire quell'azienda che magari è andata via per mille cose o perché manca il rapporto collaborativo, manca il rapporto di lavoro, come giusto che sia in ogni ambiente lavorativo, ci mancherebbe. Avete perso, tra virgolette, il rapporto con quell'azienda lì che era l'unico committente, eravate rimasti per un tot di tempo, quindi senza… No, 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 abbiamo ripiegato subito, abbiamo ripiegato subito, quella è stata una fortuna perché comunque abbiamo trovato subito un'altra azienda, quando abbiamo visto che non c'era ormai speranza, quindi che non si poteva più continuare il rapporto lavorativo con questo abbiamo subito cercato il piano B, abbiamo trovato un'altra azienda similare, piano piano siamo partiti con quella e quella comunque ci ha consentito di non essere monocommittente, quindi non voleva assolutamente l'esclusiva e quindi da lì abbiamo allargato un pochettino i campi e cercato altre aziende da inserire nel nostro pacchetto di offerte per poter appunto proseguire il lavoro. Ti era venuto in mente magari di mollare quel periodo lì? Ma sinceramente no, di mollare no. Anche perché mi hai detto che aveva creato anche un buco importante, no? Sì, sì, economicamente sì, ci aveva fatto un bel buco, però purtroppo sono cose che nel lavoro ci possono anche stare, se proprio diciamo così, cioè il rischio impreditoriale c'è sempre. A volte non sono anche prevedibili. Beh, sicuramente non sono prevedibili, però sarebbe stato più un rimosso se quello fosse guardato da me, fosse stato un errore mio, allora dici ma ho fatto una cavolata, forse devo temporeggiare, forse ragionare in modo diverso, però quando ti cala così dall'alto magari è un po' ti prendi le rispettate che non sono e continui ad andare avanti, assolutamente. E invece se fosse stato un tuo errore l'avresti presa diversamente? Ma può darsi di sì, può darsi di sì, magari avessi avuto una concezione diversa, non lo so, però l'importante è perché gli errori poi ci possono stare anche sul lavoro, ci mancherebbe, però l'importante è avere comunque lo spirito giusto di continuare ad andare avanti e di reagire. E tu che cosa hai capito da quell'esperienza lì? Beh, sicuramente da quell'esperienza abbiamo detto non possiamo più lavorare solo o esclusivamente per un'azienda, dobbiamo ampliare il raggio e cercare di lavorare con più aziende possibili, creare una società che dia dei servizi a diverse aziende, perché altrimenti sei comunque vincolato, ricattabile, tra virgolette, ci sono tanti fattori che sono anche negativi da quell'aspetto lì. Invece quando tu usci sul mercato e vendi lo stesso prodotto a diverse realtà, allora sei libero di fare un pochettino, non quello che vuoi, però comunque hai un'ampia gamma e un'ampia scelta, sicuramente. Bello, vedi un po' gli errori sono sempre ciò che ti... Molto spesso da una difficoltà poi si aprono... Si aprono opportunità, sicuramente. Nel vostro caso poi dall'inpo c'è stata una crescita, avete ampliato il numero di collaboratori, avete ampliato la piattaforma, più mezzi, da quel periodo in poi c'è stata una crescita, prima magari era un po' più stabile, no? Sì, prima era un po' più stabile, anche il fatturato era abbastanza stabile, invece adesso hai comunque certo il cliente che si vale 50, quello che si vale 30, quello che si vale 20, quello che si vale 5, però comunque hai diversificato anche la gamma dei clienti e puoi permetterti anche di portarne dentro altri oppure lasciarne fuori qualcun altro. Però quello lo fai facendo un lavoro che comunque paga molto la stagionalità, devi anche concentrarti le forze su quei mesi lì e non puoi cercare di fare, diciamo, come si dicevano, il passo più grande della gamba, altrimenti rischi di scantare un muro e poi fai un disservizio che un servizio. Certo, vi è mai successo? Ma fortunatamente no, allora se andiamo a ragionare magari su una singola giornata dove magari c'è un esplodio di volumi che non riesci a mandare fuori tutto per il giorno dopo, sì, però l'abbiamo tamponato uguale, non abbiamo mai, magari con un po' di ritardo però siamo riusciti comunque a contenere la falla. Diversamente ormai riesci un pochettino a muoverti e sai come impostare la stagione, quindi ti tieni sulla media dei volumi dell'anno scorso con un piccolo aumento, proporzionale in base ai mezzi che hai. Perché piano piano poi investi e cresci sempre più. Certo, cresci, se voglio fare allora metti magari due mezzi in più per la stagione, due persone in più, tre, e ti regoli su quei cannoni lì. Ok, tu quando avevi l'età della generazione Z, quando avevi tra i 18-20 anni o anche più piccolo, 16, avevi l'idea di aprire una tua azienda o magari vedevi più una strada come un collaboratore oppure libero professionista, non so. Ma, allora diciamo che non volevo sempre fare qualcosa da me, quindi creare qualcosa. Ancora non si ha poi la percezione di quello che vuoi fare a 16 anni, perché comunque sei ancora a fase di studi, devi vedere un pochettino dove vai o dove non vai a parare, quindi non hai sicuramente il focus già attivo di quello che vuoi fare. Però sicuramente volevo fare un'attività per conto mio, non volevo dipendere da altri o essere dipendente. Quello che ho sempre digitato è sempre stato quello, mettermi per conto mio. E tipo pensavi anche un po' al rischio imprenditoriale? Beh certo, quello ti spaventa sicuramente, mi ricordo i primi anni quando rientravi d'estate che facevi 12-14 ore, a volte erano anche 16, allora gli estratti conto ti arrivavano per posto, non è che ti arrivassero oggi online come adesso, ti arrivava magari un estratto conto, te lo leggevi ma c'era da piangere, mi sto facendo un mazzo, sto correndo e poi c'era ancora vivo, allora la buonanima di mio babbo diceva ti stai spaventando troppo presto, non devi fare ancora di strada per arrivare. Ti ha sempre incentivato? Sì sì assolutamente, sì 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 sì, assolutamente, assolutamente. Ti dicevano, cos'è che ti dicevano? Non devi fare ancora di strada, non spaventarti subito perché è normale perché nell'azienda, poi in una società come la nostra, la nostra azienda, c'è uno splat di volumi sia in ingresso ma anche in uscita, c'è consumi di gasolio elevati, c'è tanti altri costi che in quel periodo sono elevati, però c'è magari anche una fluidità di cassa che è diversa, nel senso che ti stanno entrando le fatture di febbraio e invece c'è il gasolio di maggio che sta uscendo, quindi è normale che ci siano questi sbalzi così, però l'abbiamo capito strafacendo anche quello, come ogni cosa, sì sì sì. Ogni cosa aggiusti piano piano. Sì sì sì, vai a tarare poi un pochettino tutte le dimensioni. Quindi all'inizio ci vuole un po' quel coraggio iniziale di proprio fare il primo passo e iniziare? Poi il primo passo è iniziare, avere fiducia, credere in quello che stai facendo, poi secondo me i risultati piano piano arrivano. Se hai fatto un lavoro bene, con costanza e serietà, secondo me i risultati arrivano, assolutamente. Ci vuole proprio fiducia e poi costanza. Costanza sempre, quello sicuramente. Qual è stata, secondo te, una caratteristica durante il tuo percorso che, vedendola, quanti anni, aspetta, quanti anni hai di esperienza in brinditoriale tu? Fai dal 99 fino ad oggi. Ok, quindi più di 20 anni, 23-24 anni. Sì. 25 anni. Quasi 25, sì. Quasi 25 anni. Ecco, in questi 25 anni per arrivare comunque un'azienda che si è partito da solo con il tuo mezzo ed è cresciuta fino ad arrivare a più decine e decine di persone. Qual è stato, secondo te, quali sono stati gli ingredienti che ti hanno permesso di crescere nel tempo? Ma, allora, sicuramente quello che dico sempre è la serietà. Cioè, se tu ti vendi un prodotto serio, la gente te lo riconosce. Cioè, conosce che tu sei capace di fare quel lavoro. Non vendi aria fritta, per intenderci. Quello, secondo me, è quello che, comunque, è il trampolino di lancio. Almeno parlo della mia attività, perché, altrimenti, se oggi c'è il mercato, c'è di tutto. C'è di tutto, quindi preferisco vendere un prodotto dove, un servizio, un prodotto in questo caso, che rispecchi le aspettative del cliente e avere meno clienti, però almeno ti ripaga, perché poi siamo comunque una piccola realtà, dove le voci girano, la gente si conosce e la pubblicità te la fa quello che stai facendo tu, effettivamente, i risultati. Quindi penso che per il nostro tipo di attività sia stato quello. Proprio una serietà e un'attenzione al cliente, a soddisfare il nostro servizio. E poi dato anche dall'esperienza in primo piano mia, nel senso che ho visto come si fa quel lavoro, so come si fa, perché l'ho fatto per anni da solo e quindi poi quell'esperienza la metti sul piatto quando l'azienda un po' cresce di più. Quindi anche i collaboratori lo so di trasmettere. L'ho fatto anche io, prima era ancora peggio, oggi è sempre faticoso, però si può fare in questo modo o non si può fare in questo modo. Quindi trasmetti tutte le conoscenze che hai magazzinato nel corso degli anni e le metti direttamente a disposizione degli altri. Altrimenti come sarebbe stato se tu non avessi fatto quel periodo di gaveta che prima ci stavi dicendo è durato dieci anni, giusto? Sì, anche di più. Anche di più, da solo. Sì. Ok. Come sarebbe stato se non avessi fatto quei dodici anni? Secondo me sarebbe stato come quelle aziende che mettono una figura a gestire un reparto però magari non capisci niente di quel reparto. Nel senso che per non saper fare il proprio lavoro una prima persona deve sapere fare lui in questo caso. Quindi magari controllavi solo i numeri e magari lasciavi da parte altri aspetti. però in un'azienda non sono importanti solo disclusivamente i numeri ma sono importanti anche tanti altri aspetti che ti portano poi a quei numeri. Certo. Quello forse è una chiave di lettura che non avresti avuto in quel caso. Che poi tu hai fatto per dodici anni lavoro proprio operativo della tua azienda. Sì, sì. Quello che fanno adesso i tuoi collaboratori. Sì. Invece adesso ti occupi più della parte imprenditoriale, giusto? Tu non fai più i trasporti, no? Se capita d'urgenza facciamo anche i trasporti. Se capita d'urgenza magari periodi intensi di alta stazione. Sì, sì, sì. Però è proprio, è cambiato totalmente il lavoro che facevi prima rispetto a quello che fai adesso. Sì, 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 assolutamente. Hai dovuto anche imparare cose nuove. Sicuramente hai aiutato anche, confermamelo, dimmi se sbaglio, anche gli studi che hai fatto alle scuole superiori. Sì, ragioneria. Sì, 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 sì. Ti sono tornati utili? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Certo, poi siamo scesi dal camion e ti sei posizionato in un ufficio dove fai da coordinatore. Dal coordinatore, quindi anche perché oggi qualsiasi attività è legata molto alla burocrazia, tante accettature di mille cose che ti rallentano anche l'attività lavorativa, però purtroppo fa una parte del contesto che devi fare, quindi devi seguire tante normative, fare rispetto alle normative, quindi quello ha necessità di una figura che coordina anche tutti questi aspetti. Certo, e te ne occupi tu? Sì, una parte, io una parte ho dei collaboratori che mi danno una mano sicuramente. Giusto, perché da soli si va lontani, ma in gruppo si va… Sì, ma poi una buona spalla ci serve sempre, bisogna imparare a delegare, altrimenti da soli non riusciamo a farlo. Bisogna collaborare tantissimo. Sì, sì, sì. Infatti un po' quello che vediamo anche nelle scuole quando andiamo, è bellissimo creare già quando si è a scuola di futuri gruppi di lavoro, spesso anche futuri soci, futuri colleghi, collaboratori. Tu hai qualche legame che ti sei portato dall'adolescenza, dalle scuole superiori con cui lavori ancora oggi? No, no. Devo essere sincero, no. Cambiato? No, perché ognuno ha fatto una strana un pochettino diversa, quindi non abbiamo legami lavorativi attuali. Ti senti ancora però con qualche… Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Assolutamente. Eh, Salvatore, tu hai figli della generazione Z, giusto? Mi ricordo uno di quattordici? No, la femminuccia tredici, il maschio diciassette a gennaio. Diciassette a gennaio, quindi della generazione Z. Tu li vedi più nella tua azienda o magari hanno dei sogni, non so? Ma il ragazzo sì… Lavorando fuori… Sì, il ragazzo gli piace, lui vorrebbe lavorare all'interno dell'azienda. Quello che io ho sempre detto, intanto devi finire scuola e formarti, perché oggi ogni azienda deve portare… ognuno che entra comunque deve portare un capitale in più. Lui comunque deve comunque farci la sua carriera scolastica e approfondire il tutto, perché sta diventando talmente complicato oggi lavorare che deve essere sempre di più formato. Invece la ragazzina, secondo me, farà tutt'altro. Sì? Sì, 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 sì. Poi riguarderemo l'intervista… Sì… Sì… Sì, sì, sì. Ancora… Ce l'ha a fare… Tu e se YouTube rimarrà salvata, quindi… Sì… Bello… Salvatore, tu che consiglio daresti? Che consiglio ci dai a noi dalla generazione Z che stiamo iniziando a introdurci nel mercato, nel mondo del lavoro? Sicuramente il consiglio che do è quello che do anche ai miei figli, è che dopo la carriera scolastica bisogna credere in quello che si vuole fare, bisogna accontentarsi, bisogna sempre credere in quello che sta facendo ciascuno e buttarsi in mezzo, buttarsi nella mischia. Sì, bellissimo. E poi tu sei proprio un esempio in questo. Mi piacciono tantissimo le storie, la tua in questo caso, che hai iniziato da solo, hai scommesso un po' su te stesso, hai iniziato piano piano, hai fatto la gavetta, hai imparato, hai fatto i tuoi errori, hai accumulato la tua esperienza per poi però ampliarti e crescere sempre di più. Bellissimo. Salvatore, io ti ringrazio. Grazie a te. Per essere stato qui con noi, per aver condiviso la tua esperienza, perché è proprio vicinissimo allo scopo di Generazione Z, quello di dimostrare a chiunque che qualsiasi sia il tuo punto di partenza tu puoi realizzare un tuo sogno, puoi realizzare, puoi anche costruire qualcosa di bellissimo. Che poi tu, Salvatore, sei un esempio in questo, perché come hai raccontato prima, sei partito da solo, hai fatto anni di gavetta, più di dieci anni e sei riuscito poi a costruire una tua azienda in crescita ed espansione, quindi ha ancora più valore, perché sei proprio un esempio in questo, ed è legato all'obiettivo di Generazione Z, quello di dimostrare a tutti noi che stiamo iniziando che qualsiasi sia il tuo punto di partenza, tu se hai un sogno lo puoi realizzare. Assolutamente. Quindi, Salvatore, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a te e grazie a tutti voi. Davvero, grazie ancora e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato o guardato fino alla fine. Vi ricordo che per rimanere aggiornati, se volete, iscrivetevi al canale YouTube, Spotify, dove volete. Ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti.